Ciao, come vedi, questo avatar, questo personaggio, parla con la mia voce. Se guardi la bocca ti accorgi che sto parlando attraverso la mia voce. Forte! Ma sono convinta che la mia voce sia migliore della sua. Non credere a loro. La mia voce è sicuramente migliore. È anche più elegante e modulata. Mamma mia quante storie. Intanto io sono molto più sexy di loro. E direi che la mia voce non è niente male. Ci siamo anche noi. E anche la mia voce non è brutta. È vero. Ha ragione. È molto carina. Ecco, questa era una piccola carrellata. Carrellata